comunque quindi posso essere volgare sì sì ok spudo ingoia subito ha detto ma ha detto lui ma ma ha detto lui ma ha detto lui veramente con 50 e 50 dai cos'è lo fa colare dalla labbra capita come immagine non particolarmente bucolica come dico sempre dalida se voi io ovviamente mi astengo ricordo che questo è un canale che non mi appartiene prego prego come il socio drick ha risposto ma il posto ancora da provare in che senso scusami ancora da provare in cosa è ancora da quello che hai detto tu la domanda che hai detto ancora è da provare ma mica dopo due anni avrete delle risposte ho capito non è che si fa tutto subito pian piano si fa tutto quindi il fatto che drick in realtà abbia risposto abbia risposto ti può destare del fastidio no drick ha risposto in realtà non ha detto la risposta e allora ha detto una bugia perché ancora da provare ah quindi drick hai detto una bugia drick ha detto una bugia è ancora da provare non è stato fatto niente qualcuno dice una bugia quadra drick ha detto drick ha detto da quello che dice dalida dopo due anni magari ancora non è successo è ci può stare ci può stare ok